Per ricordo, questo è il suo attacco, io ho contrattato, apro leggermente le braccia, indice pollice aperti, perché la mano sinistra va a rompere la presa e prendere il suo polso. Mentre faccio questo, sposto il piede sinistro per applicare lo squilibrio, e non lo erro, e non applicare lo squilibrio. La mano destra la rompe la presa, mi avvicino lui mantenendo lo squilibrio, non lo rimetto sotto a lui, devo mantenere dove era. Ora chiudo questo braccio, sollevo, raggrizzo bene le gambe e scendo, 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 scendo con la testa. Al suo segnale, lui rimetto la sua presa. Al suo segnale, lui rimetto la sua presa.